e bella tutti gamer benvenuti in un nuovo video di gamer 1516 oggi andremo a vedere come si trasferiscono video foto da un dispositivo a un altro prima di tutto andiamo nella galleria vabbè a me è già perso perché a certe volte ho condiviso via bluetooth alcuni video e foto in realtà voi dovete mettere il tasto condividi e cliccare bluetooth qui appare il nostro samsung galaxy a 40 e qua apparirà l'invio nell'altro dispositivo invece ci sarà una finestrella in cui vi dice trasferimento file da francesco esposto che questo questo qua in cui stavi inviando il file è il mio dispositivo che si chiama francesco esposto quindi vi apparirà la finestrella e voi dovete accettare e quindi man mano che possa il tempo si carica dipende dalla lunghezza del video e vi ricordo che si può soltanto condividere tra o tablet o tablet oppure cellulare 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 tablet non computer e qua finisce il nostro video di come trasferire un video una foto da un cellulare all'altro via bluetooth arrivederci ragazzi e al prossimo video